Grifo, operazione Bomber, titola il Corriere dell'Umbria per lo sport, non basti il colpo di serie, Castori ha bisogno del centro avanti al posto di De Luca. La difesa sembra però il reparto più completo, a centro campo e cacci invece a un interno. Intanto radinata tribuna laterale nord, giù i costi dei tagliandi. Per quanto riguarda il tennis, Passaro vuole in semifinale al torneo Città di Trieste, Challenger ATP dotato di un monte premi pari a 90.000 euro, davvero grande escalation per il tennista perugino. Per quanto riguarda invece il Memorial Poppy 20, da segnalare in semifinale alla francese Janicevic, terza testa di serie del setting. Mentre per quanto riguarda l'ITF di Gubbio che prosegue, Luca Potenza e Francesco Forti sono in semifinale al circolo tennis Gubbio nel torneo internazionale, avanti a sorpresa anche il marocchino Lallami Larussi, capiegato l'Equadoregno Guillem Mesa, fuori l'idolo di casa Militi Ribalti, eliminato dal francese De Bru invece. Mercato dilettante, il Tresti in aria abbraccia, l'esterno offensivo Belli, Procatelli a Castel del Piano, Cicognari al Viole. Veniamo quindi invece anche alla Ternana. Fere, ok, Tris al Ponte d'Era. Le reti nella ripresa con Spalluto, ex Gubbio che ha aperto le marcature, poi Agazzi nel recupero il gol di Donnarumma, altro ex Gubbio però di qualche anno Orsono. Per il bomber ex Brescia ha anche un rigore sbagliato, oggi test a Montevarchi. In difesa Lucarelli schiera come titolare in dir, per i Toscani traversa iniziare di Aurelio Terzino, anche lui ex Gubbio percorsi e ricorsi storici di ex Rosso Blu. Intanto addio Enzo Riccomini, conquistò con la Ternana la seconda promozione in Serie A, lo ricorda proprio il Corriere. Eccellenza Narnese, c'è Colangelo a centrocampo, devo molta a questo club, voglio ripagare la fiducia, dichiara il mediano classe 97. Veniamo quindi alla Serie C, doppio colpo Gubbio, Fabriani più Bonini che è un ritorno, lo vedete qui nella foto, già lo scorso anno il difensore aveva militato il Rosso Blu, linea verde per Bragli, entrambi 2001 arricchiranno il reparto difensivo, il Mancino torna dopo le 20 presenze dell'anno scorso. Oggi primo test contro la primavera della Roma, dell'ex Guidi, intanto sono arrivati altri due acquisti della Fucetà, Rosso Blu come detto oggi l'amichevole, le 10 a 7.30 al Barbetti contro la primavera della Roma, allenata dall'ex tecnico Rosso Blu Federico Guidi lo scorso anno al Teramo. Automodellismo a Gubbio, campionato europeo al mare Rosati, presenti i migliori piloti al mondo, la rassegna continentale è in programma dal 25 di luglio, mentre basket Cigold, Foligno conferme importante, Guerrine ancora in bianco-azzurri, il prodotto del vivaio è rinnovato per la prossima stagione, dunque vestirà ancora la canotte dei falchetti. E tornando a Gubbio entusiasmo al terreno del fiume pure il vescovo tra il pubblico per osservare i under 11, under 13 che militano proprio al terreno del fiume davanti il letto del Camignano. E poi per quanto invece riguarda sempre lo sport, ma di fatto internazionale che però ha eco anche in Umbria, mondiali, Santarelli ed Argento con l'Italia, il Folignati nella prova squadra e conquista la medaglia in finale, il K.O. con la Francia, dunque per la spada maschile in terra egiziana. Veniamo quindi al messaggero, il grifo a metà dell'opera, con di serio gli acquisti ufficiali sono sei, mancano ancora cinque elementi per completare la squadra di Castori. Obiettivi, secondo portiere, laterale under, mezzale a prima punta, va sciolti il nodo di chiara, toccata quota 226 per gli abbonamenti. Santarelli, splendido argento mondiale, lo ricorda anche il messaggero per la scherma. Pallavolo Perugia, ok, l'iscrizione in A2 per l'anno promossa formazione perugina femminile e poi membri al vinti, bagarre semifinali dunque con Selena Iannicevic, prima semifinalista al pop i vinti di Perugia. Fere è già mix perfetto, nell'amichevole con il Ponte della Giocata Coverciano, vinta 3-0 in gol. I giovani poi senatori, mister Lucarelli, riproposto un 4-3-2-1 mascherato contro il evento offensivo formato da tre attaccanti centrali. Falletti non ha preso parte al test, per i guai fisici non ha ancora risolti del tutto. Addio a mister Riccomini, l'eterno dopo Viciani, allenatore della seconda promozione in A, una volta disse a Ternice la Vicianite. Sport e beneficenza sotto le stelle, l'organizzazione della Corsi Notturna per sostenere il non-profit è già all'opera invece per quanto riguarda la non-edizione della Run & Walk by Night organizzata dalla podistica Terni. Narnese, l'ultimo acquisto con l'Angelo, grande entusiasmo e voglia di fare. Chiudiamo con il Quest, inserto della Nazione per lo sport. Perugia Mercato, 5 operazioni sul Tacquino, interventi più massicce a centro campo, sale l'attesa anche per l'attaccante. Il Gubbio di Braglia si scalda, oggi test con la Roma primavera, amica volerà la barbetta alle 17.30. Ancora per quanto concerne la Ternana, Trissal-Pontedera, prima rete di Spalluto, Bogdan si reggerà al gruppo lunedì, Ortolani rinnova e va in prestito al Chiasso. Sir Perugia, abbonamenti al Via, Sirci consigliere di Lega, intanto per quanto riguarda il presidente perugino. Pallavolo Perugia, servono lavori al Pellini, la libero Beatrice Rota verso la Conferma per la prossima Serie 2 femminile. E poi i dilettanti, eccellenza Paolo Cotroneo predica umiltà per il suo foligno, partire con i piedi per terra, dicare il nuovo trainer dei Falchetti. E poi in Serie D, colpo Trestina, torna l'esterno offensivo Lorenzo Belli. E' tutto per quanto riguarda questo appuntamento con Tg Mattina, che chiude di fatto la settimana di informazione mattutina di TRG. Vi ricordo stasera a 19.30.20.30 l'appuntamento con il Tg Cultura, domani stesso orario, 19.30.20.30 Tg Economia. L'informazione invece torna lunedì mattina con Tg Mattina, sempre dalle 7.30. E dunque l'augurio di un buon fine settimana a tutti voi. Grazie mille. Grazie mille.